Benvenuti in questo mio nuovo video, oggi andremo a parlare di un nuovo possibile evento presto in arrivo su Fortnite Prima di cominciare ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornati su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi, iniziamo subito Nei file di gioco della patch 11.50 è stato trovato un file audio E guardate lo spettogramma, praticamente si può notare che ci sono dei simboli, ci sono delle facce dei gattini e degli scheletri del pesce Guardate meglio l'immagine, eccoci qua, guardate Cosa significa questo? Questo potrebbe indicare un nuovo probabile evento presto in arrivo su Fortnite Poi non è l'unica cosa trovata nei file di gioco, infatti guardate questa immagine Praticamente possiamo vedere che c'è questo libro con il simbolo EGO Cosa significa questo? Significa che forse troveremo nella mappa di Fortnite tra poco questo libretto E cosa potrebbe indicare? Potrebbe indicare qualcosa che riguarda la storyline e che riguarda l'evento Ma non sono le uniche cose trovate nei file di gioco, infatti sono state trovate nei file di gioco anche varie fasi per quanto riguarda l'oro Infatti si pensa che ci saranno degli oggetti su quest'isola qua che si trasformeranno in oggetti d'oro Quindi ci saranno delle fasi ad esempio Una fase trasforma il divano in divano d'oro, poi il televisore in televisore d'oro, il gabinetto in gabinetto d'oro e via dicendo Infatti guardate queste due immagini Praticamente si è visto che c'entra qualcosa, l'isolotto che c'è nella mappa di Fortnite Infatti dentro queste case si trasformeranno gli oggetti d'oro Guardate ad esempio alcuni oggetti, eccoli qua Guardate possiamo vedere che c'è un divano, una sedia e altre cose tutte in oro Questi saranno gli oggetti che si trasformeranno Vi faccio ad esempio vedere queste immagini Guardate questa è un'immagine nel gioco dove si può notare che c'è il divano d'oro E si può anche notare che c'è il mappamondo d'oro Poi quest'altra immagine si può notare che c'è il televisore e il divano d'oro Con anche l'orsacchiotto Cosa c'entreranno queste cose? C'entrerà forse qualcosa con il nuovo probabile evento che ci sarà su Fortnite Forse questo evento darà inizio alla stagione 2, capitolo 2 di Fortnite Non si sa ancora Poi sono state trovate anche queste immagini Dove si può notare che c'è il gabinetto d'oro con sopra il libro Con il simbolo Ego Cosa c'entrerà questo? Potrebbe apparire nella mappa di Fortnite questo libretto E noi dovremmo interagire forse? E c'entrerà qualcosa con la storyline? Non si sa ancora Comunque aspettiamoci a breve questa trasformazione di alcuni oggetti in oggetti d'oro E aspettiamoci anche questo nuovo libretto con il simbolo Ego Comunque questo video finisce qua Spero che ci sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale Per restare sempre aggiornato su Fortnite E lascia un bello mi piace per supportarmi, commenti e condividi Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao